Nessuno sa quando tutto finirà Intanto c'è chi fugge in preda al panico Uscire è un delitto, non è più un diritto Se resti a casa forse si risolverà Nelle corsie la polmonite decima Coloro che la guerra un giorno risparmiò Eh, non basta la tempra, ci vuole fortuna, eh sì E speri che oggi ci sia un letto anche per te Le crisi sai sono opportunità e rallentare al corpo certo gioverà sta un po' con le mani in mano il ritmo circadiano e resta accanto a chi vuoi bene per un po' io intanto passo il tempo a scrivere canzoni che qualcuno forse ascolterà ma ho voglia di uscire di stendermi al sole così l'apocalisse vivo mi troverà può Fi si v intuitive a chi vuoi bene per le passi per la passione grazie a tutti iscriviti al nostro canale